Bentornati, bentornati in diretta su RBA Radio TV, radio comunitaria che vi racconta l'Alpi Bike Experience da quella che era la grande muraglia piemontese, lo è ancora tuttora uno dei simboli della nostra regione e della provincia di Torino, un luogo che da fortezza impenetrabile è diventato un luogo d'apertura una porta per riscoprire un territorio che vuole promuoversi anche attraverso la bicicletta una montagna che vuole essere assolutamente contemporanea, essere una risorsa abbiamo il piacere di parlare di questo e di molto altro rispetto all'Alpi Bike Experience al turismo d'alta quota con Marco Bussone, Uncem, Marco piacere ritrovarti grazie, grazie a voi buongiorno, buongiorno, ben arrivato su RBA, bentornato su RBA tanti spunti da questo Alpi Bike Experience, da questo turismo esperienziale toccare con mano la montagna e attraverso appunto il turismo e la bicicletta mi sono permesso di definire la montagna contemporanea è un aspetto secondo me fondamentale che cambia il punto di vista e lo rende davvero una risorsa una risorsa in cui si ritrovano giovani famiglie, giovani imprenditori che ripartono dalla montagna fammi dire che è la montagna del futuro dove noi non abbiamo più soltanto una monocultura di una stagione per quanto lo sci e l'inverno rimangano un pezzo forte ma noi abbiamo una montagna che grazie a discipline outdoor quindi tutto quello che è percorsi nelle aree montane acqua, palestre di roccia, naturalmente sentieri diventa per tutto l'anno anche nella primavera e anche nell'autunno non solo nell'estate è un'occasione di scoperta del territorio ma non si scopre quella montagna senza scoprire prima i paesi e i villaggi certo, paesi e villaggi, tradizione, territorio ma anche innovazione la montagna contemporanea che si riscopre attraverso la bicicletta evidentemente siamo ospiti dell'Alpi Bike Experience la consapevolezza che passa anche da chi vive da chi è in montagna e chi ospita appunto il turista che è sempre più esigente Marco sì assolutamente è sempre più esigente ed è sempre più forte la competizione come il Pinerolese lavora su questi temi tantissime valli alpine e appennini che lavorano su questi temi cosa fa la differenza? io credo che la differenza la faccia la caparbietà e l'unità delle comunità quelle che vivono su questi territori con le loro storie e le loro tradizioni non con uno sguardo al passato ma con uno sguardo al futuro se sanno accogliere, se sanno diventare interazione con quelle persone che arrivano per questo che inaugurando questa iniziativa di oggi ho detto ho usato un'espressione di Carlin Petrini fondatore di GoFood che dice non c'è turismo senza la felicità delle comunità e questo è vero, non possiamo assistere a dei flussi dobbiamo essere protagonisti di quel turismo c'è una domanda di questo turismo di questo tipo di turismo esperienziale consapevole, lento un turismo che vuole vivere queste esperienze le cerca su internet la concorrenza giustamente Marco lo dicevi poco fa è tanta la concorrenza e questo deve essere uno stimolo per questi territori che vogliono riscoprirsi anche attraverso queste possibilità allora intanto qui c'è una sinergia fra valli Pellice e naturalmente Chisone Germanasca con la parte alta della Val di Susa con Pinerolo e questa è una sinergia importante con i comuni della pianura pinerolese e naturalmente il capoluogo e poi dobbiamo tenere presente che qui c'è un consorzio di operatori turistici che utilizza e valorizza i posti letto perché noi parliamo di turismo ma dobbiamo capirci il turismo sono le notti dormite sono le persone che arrivano e si fermano più giorni investono risorse spendono qui delle risorse fanno delle esperienze le raccontano quando tornano a casa su questo dobbiamo lavorare moltissimo io credo che guardo a Mauro Vignola tanti sindaci tanti protagonisti di questa avventura c'è la capacità giusta ecco quindi un altro tema importante è la dormita quindi il fermare e intrattenere insomma intrattenere e in tutti i sensi il turista e la famiglia insomma coloro che arrivano dall'estero c'è tutto un turismo del nord Europa che non vede l'ora di scoprire questi territori non solo il turismo mordi e fuggi perché è importante anche quello perché poi si torna in questi territori mi riferisco anche a chi localmente da Torino o d'altra zona del Piemonte e dalla Liguria raggiungono le comunità di montagna che cittavi tu Marco sì quando abbiamo parlato di turismo di prossimità quindi quello che arriva da Pinerolo quello che arriva dalla Pianura da Torino ovviamente o da altri territori abbiamo sempre usato uno slogan compra in valle la montagna vivrà chi arriva su questi territori deve spendere delle risorse su questi territori non è una spesa per dire facciamo girare l'economia non è una cosa banale è un atto sociale è un atto che fa vivere i territori con quel gesto per cui non ci si porta il panino da casa ma si investe su questo territorio questo è il turismo anche di prossimità che funziona non passare oltre per andare e salire e ci crediamo il forte di Fenestrelle è un passaggio ma qui si può investire qui si investe e so che il comune e Michele e tutti i sindaci lo stanno già facendo la montagna montagna contemporanea montagna come risorsa la montagna da vivere con tutti e cinque sensi offrire l'esperienza neogastronomica il racconto di quell'esperienza quindi non solo essere una vetrina fredda diciamo con i prodotti ma anche raccontare la storia che c'è dietro quel prodotto questa può essere una delle chiavi io credo di sì l'artigianato che c'è su questi territori ha bisogno di enti pubblici quindi politica che sappia costruire percorsi nuovi come la blockchain permette di scoprire meglio i prodotti e di avere delle filiere controllate e garantite come il metaverso ci porta sui territori guardate che queste non sono prospettive tanto lontane e so che i media di questo territorio già ci stanno lavorando quindi questo vuol dire guardare al futuro quanto è importante avere una visione Marco questo è fondamentale qui stiamo agendo con diverse strategie che si intersecano e che si stratificano positivamente la strategia delle green communities porta qui su questi territori 4 milioni e mezzo di euro di una strategia nazionale del piano nazionale di ripresa e resilienza e questa strategia sul bike sulle due ruote non a motore naturalmente è una strategia a motore con l'assistita non i motorini non i motorini ma questa è una strategia importante di sostenibilità sostenibilità vuol dire garantire il futuro la montagna contemporanea che passa sotto vari aspetti che abbiamo citato insieme a Marco Bussone di Uncem l'importanza dell'unione nazionale di questi comuni di queste comunità di montagna presente qui con noi all'Alpi Bike Experience grazie Marco c'è tanto lavoro da fare grazie a voi non solo all'ombra dei campanili ma i campanili insieme un territorio insieme una valle insieme qui ci sono più valli quindi siamo già avanti ok grazie ciao Marco grazie avanti